Ha toccato quota 2720 in tre giorni la petizione lanciata sul sito change.org dai genitori di Greta Berardi, tredicenne ravennate, per chiedere una nuova legge che tuteli le persone transgender. Tante le difficoltà incontrate da Greta e dai suoi genitori nel momento in cui hanno iniziato ad affrontare il problema dell'identità di genere. E' nata così, come spiega ai nostri microfoni il papà Luigi Berardi, la necessità di chiedere di modificare una legge che tuteli maggiormente chi non si sente a suo agio nel proprio corpo, maschile o femminile, e voglia cominciare il percorso verso il cambiamento di sesso. Nel momento in cui Greta ci ha coinvolto e ci ha rivelato quello che gli succedeva, abbiamo cominciato a scontrarci con l'impreparazione della scuola, ma anche di noi stessi, delle strutture sanitarie e quindi ci siamo scontrati con questa situazione e abbiamo deciso che era necessario metterci la faccia e lottare perché questa cosa cambiasse. Il primo passo per noi era proprio togliere di mezzo la legge 164 dell'82 e farne una più adeguata e che tuteli di più le persone come mia figlia. In particolare i minori? Sì, i minori per questa legge, ve lo dico tranquillamente, sono dei fantasmi, non esistono. In Italia o sei maschio o sei femmina. E visto che non puoi deciderlo finché sei minorenne, mia figlia che ha deciso che è femmina, non esiste per la legge italiana. Noi andiamo in qualsiasi ufficio, in qualsiasi struttura e tutte le volte dobbiamo spiegare perché il documento dice, riporto il nome maschile e invece mia figlia è una ragazza.